bisogna tenere ghiacciate le vene adesso sangue freddo voglio rischiare l'ipotermia ma sangue freddo Juventus che crolla drasticamente prima sconfitta stagionale in casa allo stadium dopo la battuta d'arresto con l'Empoli la sconfitta con l'Inter arriva l'ennesimo stop l'ennesimo blocco una squadra che è tornata su livelli normali perché dico questo? perché nella ripresa quando trovi un avversario che poi si chiude la Juventus non riesce a fare un tiro in porta questo dicono i numeri la Juventus nella ripresa non ha fatto un tiro in porta contro un avversario di certo non tra i migliori della Serie A per me l'aspetto mentale è prioritario e sull'aspetto mentale la Juventus di Allegri aveva costruito le sue fortune e in questo fatemi dire secondo me è stata straordinaria l'Inter è stata straordinaria l'Inter come magari è successo l'anno scorso con Napoli che nei momenti decisivi ha creato il vuoto l'Aventus finora era stata brava a rimanere aggrappata a rimanere in scia sai quando c'è l'avversario in scia la segui l'Inter non ha mollato di un niente e ha tolto fiducia a torto fiducia andarti a giocare la partita con l'Udinese col meno 7 e secondo me è stata l'ennesima l'ennesimo colpo sulla testa dei giocatori e la squadra e la squadra poi ci ha messo del suo secondo me anche con delle scelte dell'allenatore che ultimamente non stanno pagando ci arriviamo ne parliamo e come se lo facciamo prima però se volete vi invito a lasciare il like a iscrivervi al canale per seguire i prossimi contenuti e parliamo anche di Sorare parliamo anche di Sorare tanti di voi lo conosceranno assolutamente perché si tratta veramente di un fenomeno assoluto fantacalcio il primo fantacalcio live che vi permette di sfidare i vostri amici oppure manager da parte di tutto il mondo qui vi metto la sfida appunto che ho lanciato che ci siamo lanciati con lo zoccolino e l'ho l'ho trinciato l'ho asfaltato come è giusto che sia perché con me lo zocco deve essere sempre asfaltato è una regola è prassi potete fare anche voi quindi potete sfidarci anche voi quindi vi invito sotto al link di unirvi alla community scrivere e bla 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 tra l'altro vi allego anche magari il profilo Instagram di Cucu Bomber che è appunto partner e che vi darà tutte le info magari che non sto qui a dirvi io se avete bisogno di essere inseriti nella community di sapere passate anche su Cucu Bomber quindi in descrizione allora da dove partiamo non so se non lo metterò nel titolo o meno ma la decide Alexandro perché per quanto mi riguarda l'andare sotto in questa gara per la Juventus è stato decisivo è stata è stata l'ennesima pugnalata allo stomaco e il gol che subisce la Juventus oggi solitamente non lo prende quella palla messa lì nell'area piccola e nell'area piccola hanno sempre giganteggiato i difensori bianconeri sempre oggi Alexandro secondo me non all'altezza c'è da dire che era squalificato se non va l'errato Danilo comunque indisponibile e si va sulla scelta di Alexandro io ve lo devo chiedere che fine ha fatto Rugani Rugani che quando è stato chiamato ha sempre risposto presente che fine ha fatto io non capisco questa voglia spasmodica questa stima imperterrita che nutre Allegri nei confronti di un Alexandro che sono anni che non riesci in qualche modo a incidere capisco che è l'unico sinistro forse nella retroguardia Juventina capisco anche che forse come braccetto lo vuoi utilizzare perché poi è quello che ti mette nel momento in cui magari attacchi è quello che ti mette il cross per Milik lo capisco se la vogliamo andare a valutare da questo punto di vista ma dietro Alexandro è veramente sciagurato è una sciagura ragazzi quindi che fine ha fatto Rugani ve lo voglio chiedere a voi non capisco secondo me ha rotto un po' il giochino lì davanti quando ha deciso che Ildiz non mi sta bene non è giovane ha bisogno di stare in panchina cioè Ildiz ha fatto una gara una migliore dell'altra quando l'ha panchinato è arrivato il pari con l'Empoli dovuto a causa all'espulsione di Milik con l'Inter non ha brillato oggi parte dalla panchina entra e forse incide poco ha avuto lui l'occasione del pari anche col movimento fatto bene per carità di Dio su un assist su un assist di Cambiaso Cambiaso che secondo me è stato il migliore uno dei migliori perlomeno in chiave gioventina e quindi nel momento in cui deve recuperare la partita non capisco perché Allegri lo faccia lo faccia uscire lo faccia accomodare in panchina mi è sembrata una scelta onestamente priva di tatto e di sensibilità e niente le scelte di Allegri che hanno fatto sì fino prima precedentemente a queste ultime tre gare avevano gli va dato atto così come secondo me nelle ultime tre ci ha messo anche un po' anche un po' del suo ripeto prima panchinando Ildiz poi mettendo da parte alcuni giocatori ho citato per esempio Rugani e poi anche nelle scelte nelle scelte in corso l'Ono Juventus che sbaglia il piano gara con l'Inter l'Ono Juventus che che secondo me ripeto se diamo dei meriti all'allenatore per quello che ci aveva fatto vedere quello che ci sta facendo vedere se vogliamo in questa stagione perché attenzione io non voglio stare qui oggi a dire è facile perde adesso non va più bene niente no secondo me l'Iventus sta facendo la sua stagione secondo me l'Iventus sta facendo la sua stagione e l'Inter e l'Inter che è di un altro passo ragazzi io voglio voglio precisare non voglio essere presuntuoso magari fazioso e qualcuno mi verrà a dire perché se no per me l'Inter la mia visione poi magari può essere ripeto distorta dalla fede per me l'Inter è l'Inter che sta sta giocando proprio su un altro livello con un'altra qualità e se la Juventus ci aveva mostrato che in alcune partite c'era arrivata un po' per inerzia ecco ci aveva mostrato questo e poi per capacità per cuore e altro ne era uscita levata quella spinta la abbiamo visto alcuni limiti che sono riemerse però non voglio sta qui a dire adesso che non funziona nulla che non va beh allegri adesso è diventato di nuovo un mente no no però senza ombre di dubbio onori e oneri come è giusto che sia certo è che ripeto troppo poco troppo poco nella ripresa perché nel primo tempo se vogliamo forse registriamo per la prima volta l'eventus che mette a segno così tanti tiri verso la porta se non vale addirittura sei però nel momento in cui l'avversario poi si chiude l'eventus oggi ha fatto enorme fatica ripeto zero tiri in porta nella ripresa sono un numero che fa riflettere poi anche vero se vogliamo sfortunata per il fatto che mette batte il calcio d'angolo la palla esce fuori e lì avrebbe segnato tutto tutto quello che mi pare però secondo me qualcosa nella quella carattere quella quella andare oltre anche l'episodio che gli aveva che gli aveva fornito dei punti che gli aveva fornito dei guizzi è mancato e sta mancando alla iventus ultimamente ma ribadisco non è facile quando ti viene me cioè la squadra che tu stai inseguendo va sempre più lontano non la smette mai e non prendiamoci in giro la iventus non è che si guardava dietro fino ad oggi la iventus guardava all'intero non è che guardava al quarto posto perché l'allenatore ci fa credere il quarto posto tutte bagianate guardava avanti e quelli davanti scappano e scappano e scappano e scappano e non ce la fai non gli stai dietro e perdi i punti fatemi sapere cosa ne pensate voi commentate like se volete iscrivetevi al canale un grande abbraccio da Neschio sangue freddo sangue ghiacciato ciao